ragazzi è uscito poi l'altro numero 3 che ha dato l'uomo l'uomo è uscito ho messo il pallone di un po' e poi ci siamo e poi ragazzi e poi ci attendiamo e poi ci attendiamo pronti passi ragazzi dove sta l'inizio? se vai già iniziare a partire sto attocco pronti passi tocco via calcio libero per noi giratevi giratevi rafferro rafferro speriamoci più muro muro marco cazzo tavana buono marco marco dritto ci proviamo? ci proviamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.